Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un piccolo porta incenso, piccolo e portatile. Non è un oggetto ovviamente indispensabile, ma è uno di quegli oggettini che è simpatico e anche divertente da fare durante le nostre uscite in natura. È uno di quegli oggettini che mi son fatto per me, però come sempre mi son detto perché non condividerlo con gli amici del canale? Magari a qualcuno può interessare. L'ho voluto fare in stile bushcraft, quindi utilizzando solo materiali naturali, ma comunque è un oggetto simpatico da poter fare. Io lo utilizzo spesso quando faccio i miei lavori di intaglio del legno, lo metto lì a fianco e mi dà un senso di piacevolezza, ecco, solo per questo. Beh, che dire ragazzi, se vi interessa rimanete con me nel corso del video che andiamo a iniziare e vediamo subito cosa ci serve. Ok? Andiamo! Ora amici, per fare questo porta incenso sto utilizzando una sezione di bambù, ok? Qui c'era il nodo, quindi sotto è chiuso, sarà un 3-4 cm di larghezza più o meno e lo taglierò a 6 cm e poi lo lavorerò. Innanzitutto farò un taglio, ok? Lascerò 6 cm. Andiamo! Ora cosa sto facendo? Sto rimuovendo un po' di quella corteccia sottilissima che il bambù ha sopra di esso in modo da esporre le fibre che mi piacciono di più. Poi questa è una questione di gusti, uno la può lasciare anche così com'è, però secondo me le fibre del bambù sono più belle, quindi andrò a rimuovere, diciamo, la parte superiore, la corteccia del bambù. Con calma, con il coltello, eccoci qua, bello pulito. Ora quello che farò è prendere una pietra piatta e la arrotonderò per farla entrare precisa precisa nel fondo, ok? Quindi adesso questa qua piano piano la spacco e la levigo un pochino fino a farla diventare bella tonda che entra perfettamente qui dentro. Ora amici, farò una serie di fori, tutto intorno utilizzando il mio trapanino a mano. Se non sapete di che si tratta vi lascio il link in descrizione perché l'ho fatto vedere in un video passato, ok? È un trapanino ad arco proprio per fare piccoli fori precisi e senza rischiare di spaccare il legno, in questo caso il bambù, ok? Vedete come è fuori in modo preciso e senza rischiare di spaccare il bambù. Ecco qua, voilà. Ora continuo, farò una serie di quattro fori sotto e quattro fori sopra. In più ho fatto due forellini in più, uno e due, per poi farci passare uno spago per appenderlo. Ma continuiamo, ora ci manca solamente il tappo e abbiamo finito. Allora amici, ho fatto questa pietrina, l'ho arrotondata vicino a una pietra ruvida e voilà, ok? Entra perfettamente. Ora amici, ho preso un altro tronchetto di erica e ora con questo cercherò di fare il tappo. Ho preso una sezione che avevo tagliato del bambù e, come vedete, l'ho spianato fino a farlo diventare della stessa misura. Ora, a mezzo centimetro, farò un taglio in modo che poi si andrà a incastrare perfettamente nel porta incenso e niente, cominceremo a creare il tappo da qua. Qui ho una mini seghetta che ho fatto io, con un seghetto per il ferro. Eccolo qua. Questo mi consentirà di fare un taglio molto preciso e molto sottile. Quindi andiamo con questo e piano piano facciamo un taglio proprio in modo preciso. Vedete com'è sottile e preciso? Ora, man mano, girerò. Vedete che taglio preciso e pulito che ha fatto? Ok, ora cosa farò? Con calma, con il coltello, piano piano, un pezzettino alla volta farò saltare tutti gli angolini in modo che ovviamente farà l'incastro per il tappo. Con molta delicatezza perché tanto non c'è bisogno di tanta forza. Vedete? Ok. Ora, questo qua piano piano con il coltello lo farò saltare fino a che si incastrerà perfettamente con la sezione del bambù del porto incenso. Ok? Per capirci. Ora lo faccio vedere comunque. Ora, con questa tecnica io andrò a rimuovere del materiale tutto intorno con la massima precisione perché utilizzerò la punta del coltello e farò leva, riuscirò a rimuovere proprio dei trucciolini piccolissimi e quindi avrò il massimo controllo e la massima precisione su quanto materiale dovrò rimuovere e in che punti poi specialmente, quindi avrò proprio il massimo controllo. Andrò con calma, vedete come rimuovo piano piano i trucciolini? E ogni tanto vado a controllare per vedere se la sezione, ecco qua, già ci siamo, guardate, si incastra. Mi posso anche fermare qua e dopo in caso gli darò un'altra pulita, ma già così secondo me vabbè. Continuiamo, adesso andiamo a tagliare qui. Ora, amici, ho segnato tutto intorno, all'incirca un centimetro, poco meno. Ora taglierò, non completamente, ma girerò mano a mano tutto intorno per lasciare giusto un centimetro al centro. Ecco qua. Vedete che taglio bello pulito? Ora taglierò di netto su questa linea qui che ho già segnato, all'incirca un centimetro, via poco meno. Ecco qui il nostro pezzo, ok? Ora cosa ho fatto? Ho segnato con la matita quattro linee, ok? Dove adesso con il seghetto andrò a tagliare così e così in modo da far saltare tutti questi pezzetti e lasciare solo quello centrale. Senza però toccare ovviamente questo pezzo qui. Manca l'ultimo pezzetto e ci siamo. Voilà! Eccolo qui. Ci siamo, ok? Ora quello che farò con il coltello, stonderò un pochettino, lo ripulisco un po', insomma lo rendo un pochino più esteticamente più carino, ok? Bene, andiamo avanti. Quando fate questi lavoretti con pezzi di legno, ogni tanto io vi consiglio di bagnare il pezzo sia per ammorbidire il taglio e sia per evitare che si possa crepare, specie se fa parecchio caldo. Questa è una tecnica di levigatura del legno con stesso la lama del coltello. L'unica cosa è che per fare questa raschiatura, diciamo, questa levigatura, abbiamo bisogno di un coltello molto affilato, altrimenti non funzionerà. eccoci qua, ok? L'ho stondato, ora con la punta del trapanino andrò proprio qui al centro a fare un forellino, ok? Proprio qui, in concomitanza ai due fori del portaincenso. Ecco come è uscito, ok? Ora, per finire, un pezzettino di cordino che ci servirà sia per tenere fermo il tappo, quindi per chiuderlo, e sia per darci la possibilità di appenderlo in caso. Sto utilizzando un cordino cerato in canapa, ho fatto un piccolo nodino qui, l'ho passato su questo forellino, gli ho fatto un nodino alla fine, e ora rimane così, vedete? Cosa facciamo poi? Passiamo così. Questo lo passiamo in senso contrario. Ora, ho fatto passare il cordino così, sono entrato da questo buchino, e sono uscito da questo qui, ok? Ora, così, se io tiro un po' il cordino, posso stapparlo, il tappo rimane sempre legato al contenitore centrale, ok? Nel momento in cui, clac, chiudo, ok? Ora, questo cordino, se vogliamo, possiamo allungarlo, io posso allungarlo, e posso fare anche un gancio per appenderlo, in pratica, in questo modo, se voglio appenderlo da qualche parte. Nel momento in cui non mi servirà più, metto gli incensi dentro, così, chiudo il tappino, e vado a tirare il nodino, in questo modo, e si andrà a serrare completamente il tutto, ok? Questo lo passo sotto, giusto per sicurezza, e voilà! E così rimane chiuso il nostro contenitorino. Nel momento in cui mi serve, mi basta togliere il nodino, allungare un po' questo qui, prendere i miei incensi, io utilizzo questi qua, conici, piccolini, simpatici, fanno un buon odore. Andiamo a vedere di farlo funzionare, sono proprio curioso. Ah, giusto ragazzi, mi stavo per dimenticare. Per finire, un po' di cera, di quella che faccio io, e andiamo a passargli questa cera, sia per lucidarlo, sia per proteggere e nutre il legno. Se volete sapere come ho fatto questa speciale crema per il legno, io vi lascio il link in descrizione e anche sovraimpressione. È un'ottima crema che protegge e lucida il legno. Ok? Facciamo anche un po' il cordino. Così scivola anche meglio. E ci siamo. Eccolo qua. Finito. Pronto per funzionare. Una volta che ha preso, giriamo e con dei colpettini lo mettiamo al centro. Oppure ci possiamo anche aiutare con un lignetto e lo facciamo rimanere giusto al centro. Ok? A questo punto lui sta funzionando. Volendo, con questo sistema lo possiamo anche appendere. Che dire, amici, è uno di quegli oggettini piccolini che non sono indispensabili ovviamente, però è divertente costruirlo e anche utilizzarlo poi durante le uscite magari. Io lo uso spesso quando faccio i lavori di intaglio che mi metto lì vicino al fuoco e ogni tanto mi accendo questo piccolo conetto di incenso. E' più una sciccheria più che altro, niente di che. Però comunque è simpatica come cosa. Io l'ho fatto per me, però come sempre mi son detto perché non condividerla con gli amici del canale. Magari a qualcuno può interessare e prendere spunto. Anche per la tenda, se vogliamo profumare la tenda, basta tenerlo un minuto all'interno e già profuma tutta quanto la tenda. Poi magari lo portiamo fuori perché sennò diventa troppo pesante poi. E diciamo che non l'ho ancora completamente finito. Vorrei ancora fargli qualche decorazione. Ora non so se farò qualche intaglio o qualche disegnino intorno. Però in caso io quando lo finirò lo pubblicherò su Instagram. Quindi se volete sapere come va a finire seguitemi anche sulla mia pagina Instagram così potete vedere il lavoretto finito. E li pubblico anche altri lavori, skill e tanto altro. Quindi se volete potete seguirmi anche su Instagram. Io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo oggettino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici! Ciao amici!